Buona l'affluenza sulle piste da sci di Campo Imperatore nel periodo delle festività. È il bilancio tracciato dal direttore di esercizio del Centro Turistico del Gran Sasso, l'ingegner Marco Cordeschi. Numeri buoni in attesa dei lavori. È andata molto bene, dice Cordeschi, è stato un bel periodo, bel tempo, che non ha condizionato dunque le presenze sul Gran Sasso. Ci sono state presenze costanti, non numeri elevatissimi, ma tutto sommato siamo soddisfatti. Nei prossimi mesi ci saranno i lavori alla seggiovia Le Fontari e all'albergo di Campo Imperatore. Ormai certi interventi, infatti, non sono più rimandabili. La giudicazione della gara per la sostituzione delle Fontari, dice Marco Cordeschi, è una cosa importantissima. La Leitner, entro l'anno, dovrà provvedere alla sostituzione dell'impianto. L'impianto, infatti, ha ridotto malissimo e questo intervento è assolutamente urgente. Il Comune, so, aggiunge, si sta muovendo per la ristrutturazione dell'albergo e dell'ostello. Altri aspetti molto importanti. Negli anni, però, sul Gran Sasso è mancata completamente la gestione manageriale. Bene la montagna, ma non dal punto di vista dei servizi. C'è tutto sul Gran Sasso, ammette Cordeschi, dal punto di vista della bellezza della montagna e della natura. Però, per il resto, siamo messi molto male. Al di là della programmazione del piano d'area, del piano strategico, gli interventi di rilancio, infatti, non sono mai stati effettuati. Così come non c'è stato il management industriale. Da anni si parla poi di privatizzazioni. In termini industriali si deve fare, dice Cordeschi. Un comune, anche importante come quello dell'Aquila, non può pensare di gestire un sistema industriale di questo tipo. Ci sono situazioni che vanno corrette e vanno corrette al più presto.